La registrazione. This meeting is being recorded. Ok. Salve, buongiorno. Oggi è il primo dei quattro incontri di questo ciclo che abbiamo intitolato Vite in Comune, Co-Housing, Co-Working e Transizione Ecologica. Allora, si tratta di una serie di seminari tesi a far conoscere questa forma di abitare e lavorare collaborativo che noi speriamo faccia da volano anche per la riqualificazione energetica e la creazione di lavori green inseriti nel contesto del co-housing. Lo faremo con studiosi e soprattutto con testimonianze dirette di persone che hanno fondato e fatto crescere questo tipo di realtà. Non voglio rubare troppo tempo, ma il senso della mia introduzione è per far comprendere cosa centri questo ciclo di seminari con i beni comuni che sono il fondamento della nostra associazione. E allora mi piace farlo partendo dalle parole di Stefano Rodotà che in una delle sue ultime lezioni pubbliche il 21 febbraio del 2017 all'Istituto di Studi Filosofici di Napoli lui moriva poi nel giugno del 2017 sui beni comuni si esprimeva in questi termini. i beni comuni sfidano le due categorie fondative della modernità sovranità e proprietà poi fa un inciso parlando delle tre parole della rivoluzione francese che sono l'evento periodizzante della modernità libertà, fraternità e uguaglianza libertà, eguaglianza e fraternità che nel codice napoleonico vengono poi cambiate in libertà, eguaglianza e proprietà. E allora Stefano Rodotà prosegue nel suo ragionamento e dice la rilevanza attribuita alla proprietà diritto esclusivo non oscura soltanto la fraternità reinterpreta anche gli altri due riferimenti della triade rivoluzionaria attraverso la saldatura tra libertà e proprietà e il conseguente inevitabile mutamento del senso dell'uguaglianza. Una volta intesa la proprietà come fondamento della libertà stessa secondo la classica lettura del liberalismo è evidente che essa diviene pure la condizione dell'uguaglianza dal momento che solo l'uguaglianza nel possesso si presenta come fattore decisivo per il superamento delle disparità. L'individualismo proprietario connota non solo l'aspetto economico ma istituisce una diversa antropologia quella del borghese moderno che implica quasi una costituzionalizzazione della disuguaglianza. Il proprietario tende a cancellare il cittadino o meglio a concentrare la cittadinanza in capo al proprietario con una vicenda che avrà la sua più evidente manifestazione nella cittadinanza censitaria. Ecco mi fermo con la citazione ma questo passaggio mi serviva per chiarire che il co-housing non è la negazione della proprietà privata secondo un modello di comune da figli dei fiori anche se l'utopia peace and love di questi tempi risuona come l'unica cosa da augurarsi. Il co-housing è una dimensione dell'abitare che concilia la riservatezza di spazi privati con una condivisione di spazi comuni che promuovono le relazioni, la socialità e soprattutto la partecipazione alla gestione di servizi e attività a fruizione collettiva che vanno dalla cura delle aree verdi a locali per l'attività sportiva a asili nido a ristoranti che diventano anche forme di co-working e di autofinanziamento per i co-houser. Insomma questa componente relazionale che contrasta con l'individualismo e l'isolamento sociale cui la dimensione metropolitana può portare è un elemento centrale a nostro avviso. Viviamo ormai da decenni una sfida democratica irrisolta testimoniata da percentuali sempre crescenti di astensionismo che porta ad una democrazia senza cittadini crediamo che tutto ciò che favorisce il confronto e che contrasta l'isolamento civile e che favorisce l'inclusione sia una precondizione per una democrazia partecipativa. Il distanziamento fisico che la pandemia ci ha imposto ha reso ancora più evidente è l'atomizzazione delle nostre vite e questo si inserisce in una tendenza di lungo termine. Pensate che nel Lazio la percentuale di nuclei familiari formati da un solo componente è passato da meno del 10% negli anni 70 al 40% attuale. Il conseguente impoverimento relazionale è avvenuto contemporaneamente allo svuotamento nelle città di servizi fondamentali in prossimità alla chiusura di negozi di quartiere all'invecchiamento della popolazione. Viviamo a Roma nella metropoli più grande d'Italia che è piena di contraddizioni è una delle città dove il consumo di suolo è più critico che altrove a fronte di medie nazionali che registrano più di 15 ettari al giorno persi di aree naturali e agricole con un incremento del fenomeno che fa perdere al nostro paese quasi due metri pensate, due metri quadrati di suolo al secondo. La capitale ha un triste primato su 139.500 ettari di territorio consumato nel Lazio secondo l'ultimo rapporto dell'ISPRA nel periodo 2019-2020 quasi 70.000 ettari sono quelli andati persi nella sola provincia di Roma con un incremento che nell'ultimo anno considerato è stato di 271 ettari di nuovo suolo artificiale quindi in questo modo Roma è la prima città in questa triste classifica di suolo artificiale che si aggiunge la seconda città è Torino ma solo con 162 ettari non i 271 di Roma Roma è anche la prima città d'Italia per siti in abbandono e quindi il nostro modello ideale di co-housing si sviluppa in edifici di grandi dimensioni come uffici fabbriche dismesse o alberghi dismesse pensate che con la pandemia su 1200 alberghi ne sono stati chiusi 400 e questi luoghi abbandonati a noi piacerebbe avessero nuova vita e nuova vita partecipata dall'ultima rilevazione censuaria il numero di edifici in tutta Italia sono circa 31 milioni nel Lazio ce n'erano 2700 circa 2800 e di questi 492 mila in stato d'abbandono pensate anche qua che spreco di suolo abbiamo Roma quindi è anche la prima provincia italiana per numero di edifici sono 464 mila in base all'ultima rilevazione censuaria che ha visto aumentare il numero di edifici del 15 e 6 per cento nei dieci anni rispetto al precedente censimento ed è anche quella con il maggior numero di siti abbandonati anche perché una buona parte sono anche quelli della pubblica amministrazione la pubblica amministrazione mediamente ha un 7 per cento dei suoi immobili che sono inutilizzati in base ad una rilevazione del 2018 di censimento del patrimonio della PIA insomma quello che ci auguriamo è che a Roma dove è sicuramente da evitare un'ulteriore cementificazione della città questo modello di abitare e lavorare collaborativo siano un volano non solo per le comunità energetiche rinnovabili di cui parleremo nel prossimo incontro che si terrà il 22 aprile ma per riutilizzare il già costruito e per un ritorno a condizione di vita ambientalmente e socio-economicamente sostenibili come sostengono sia la società dei territorialisti sia la scuola di economia civile attraverso un progetto di riterritorializzazione dal basso in grado di generare nuovi progetti sinergici tra insediamento umano ambiente e storia che valorizzino la conoscenza multidisciplinare del territorio e l'autogoverno dei beni comuni territoriali mi sto avviando alle conclusioni e passo volentieri la parola ma volevo dire che spesso il co-housing interseca la locuzione rigenerazione urbana che spesso viene utilizzata da operatori privati e amministrazioni pubbliche anche per indicare progetti di speculazione immobiliare purtroppo la logica speculativa è stata sicuramente sospinta dalla situazione di indebitamento delle amministrazioni centrali e locali su cui che hanno fatto cassa purtroppo sui beni comuni anche pubblici il sottofinanziamento è stato parzialmente compensato dall'accesso a bandi attraverso i quali i comuni raccolgono circa il 40% dei fondi e questo ha fatto aumentare enormemente il partenariato tra pubblico e privato le cui logiche competitive non sempre hanno favorito il bene comune ecco a proposito di finanziamenti comunitari e partenariato pubblico privato passo la parola a Marco Giustini che introduce la prima relatrice grazie salve se mi devi passare eccoci allora il prima di tutto vorrei un attimo introdurre il concetto di co-housing perché diciamo nella introduzione di Antrella non è stato evidenziato diciamo il concetto di co-housing il co-housing che sostanzialmente nasce in Danimarca negli anni 70 e successivamente si sviluppa negli Stati Uniti attraverso il lavoro di due architetti e praticamente è volendo sintetizzare molto un condominio volontario cioè nel senso che al contrario del condominio che è un'associazione di persone casuale il co-housing è un tipo di abitazione collettiva in cui ci sono degli spazi comuni e degli spazi individuali cioè gli appartamenti individuali delle persone e degli spazi comunitari diciamo che possono comprendere una serie di servizi che sono sia per diciamo gli abitanti ma possono essere anche aperti alla quartiera e questo è interessante perché diciamo in questa forma mista apre anche alla possibilità della coesistenza di un diciamo di co-housing di iniziativa privata cioè intenzionali e co-housing con finalità sociali questo per esempio è il caso che ci andrà a illustrare Daniela Patti che è utropian a Bruxelles in cui c'è un'iniziativa diciamo di co-housing misto pubblico privato proprio di questo tema diciamo della diversità di modelli e quindi diciamo in generale possiamo dire che c'è un modello iniziale che è quello intenzionale di cui poi ci parlerà Piera Salvano per l'esperienza di Torino una dei primi co-housing che sono nati in Italia e poi il co-housing diciamo di tipo sociale quindi che può avere anche delle funzioni attenziali e poi anche diciamo una forma di co-housing che è anche quella delle occupazioni abitative come per esempio a Roma dove ci sono almeno due occupazioni abitative quella del Spintai e quella di Porto Fugliare che hanno delle funzioni molto simili al co-housing quindi diciamo perché sono stati impostati anche diciamo delle modalità specifiche di organizzazione della convivenza che questa è anche un'altra caratteristica del co-housing c'è un'intenzionalità nello strutturare la convivenza anzi diciamo che spesso vengono usati anche dei metodi diciamo di democrazia per gestire per gestire le relazioni tra le persone quindi diciamo c'è anche ci sono una molteplicità di aspetti che coinvolgono il co-housing quindi cioè quello della relazione tra le persone e anche diciamo quello della di come la relazione viene impostata quello anche del modello di diciamo di costruzione architettonica sia in termini di facilitazione della socialità ma anche in termini per esempio di modelli di costruzione del tipo ecologico che facilitano per esempio le energie rinnovabili ora lascio la parola a Daniela Patti che ci parlerà delle esperienze europee grazie buonasera a tutte e tutti e grazie grazie moltissimo per l'invito per questo momento di confronto su questo su questo tema io vi parlo da Roma con un cappello con un cappello europeo giustamente come diceva come diceva Marco allora a questo punto io forse vediamo se la tecnologia è dalla mia parte e provo a condividere delle slide così magari abbiamo un po' di immagini insomma che ci aiutano a vedere un po' di quello di cui stiamo parlando allora naturalmente man mano che io parlo assolutamente insomma una conversazione un dialogo quindi assolutamente sentitevi liberi anche di farmi domande o di spiegare meglio qualcosa se dovesse non essere di non essere chiaro allora prima di tutto forse una cosa che vi vorrei spiegare un attimino anche il punto di ingresso all'interno di questo racconto io sono una delle fondatrici di Eutropian che è un'organizzazione di urbanisti sociologi giornalisti con base a Roma Vienna e Budapest siamo una microscopica multinazionale sociale se così si può dire dove cerchiamo di lavorare su progetti di ricerca e progetti e di implementare nelle nostre città dei progetti appunto di sviluppo urbano collaborativo quindi nel nostro caso abbiamo lavorato un po' su tema dei mercati della rigenerazione urbana degli usi temporanei e questo è un po' quello diciamo il punto di ingresso nel quale entriamo in questa storia e le storie di cui vi parlo oggi trovate nella nostra rivista che è online gratuita alcune di queste interviste con dei video magari che sono anche se qualcuno vuole approfondire un po' di più e magari sarebbe anche bello riuscire ad avere anche più racconti di housing su Roma che questo è assolutamente qualcosa che ci auguriamo di poter fare a breve io vi provo a raccontare tre storie con il tempo che abbiamo a disposizione mi scuso in anticipo del fatto che non si potranno raccontare in grande dettaglio tutte le esperienze però potrebbe essere utile per cercare di capire alcuni degli aspetti in particolare io quello che vi vorrei raccontare sono uno i rapporti con la pubblica amministrazione perché proprio si diceva il tema è il rapporto del pubblico privato e ci sono esperienze diverse modi diversi di rapportarsi tra gruppi diciamo gruppi di cittadini gruppi civici e la pubblica amministrazione il secondo punto è legato al modello organizzativo della comunità che va a fare co-housing e pertanto il modello economico che da questo deriva questo è un pochino tra le mille cose che sicuramente mille sfaccettature che sono legate al tema del co-housing questo è quello del quale vi vorrei cercare insomma di dare una panoramica per quanto per quanto possibile allora il primo progetto dove vi vorrei portare a Barcellona Barcellona la premessa necessaria è fare un attimino il quadro anche di quello che è il contesto politico della città credo che tutti conoscano la 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 sindaca ad Acolau che è espressione dei movimenti della lotta per la casa nella città di Barcellona e questa è una premessa fondamentale per poter capire quelle che sono state le politiche di eh abitative nel comune di Barcellona negli ultimi anni soprattutto tenendo conto che in maniera in parte analoga a Roma ha avuto un processo di gentrificazione quindi un processo di di aumento dei prezzi e e e conseguente eh rialloggiamento della diciamo estromissione della popolazione eh preesistente nei quartieri verso aree più periferiche spesso anche fuori dal comune di Barcellona e questa è una situazione nella quale ci ritroviamo anche a Roma con questa base con questa informazione di base quello che vi racconto qui è ad oggi un'esperienza non priva di conflitti ma di collaborazione tra la pubblica amministrazione e i movimenti di lotta per la casa vi porto al alla cooperativa di La Borda quello che viene fatto è sulla base ovviamente di una di un'iniziativa di una pressione politica dei movimenti per la casa viene eh instaurato un modello per il quale il comune che aveva molti lotti non costruiti all'interno della città di Barcellona e quello che vedete nella fotografia è uno di questi vengono messi a bando per essere eh diciamo la base del terreno per eh cooperative abitative quindi il modello della cooperativa è che il terreno viene dato a disposizione per 75 anni a titolo gratuito e questo ovviamente abbassa il costo del della costruzione dell'immobile naturalmente a fronte di un progetto di co-housing che abbia una valenza sociale importante quindi perché una delle tematiche che dobbiamo in maniera abbastanza chiara anche affrontare è che parlare di co-housing e abitare collaborativo eh in moltissimi casi è un'esperienza che appunto veniva citata la Danimarca ma anche la Germania a Berlino sono delle esperienze molto note ma molto spesso è per diciamo una classe più agiata chi può comunque permettersi di spendere un quantitativo di soldi comunque non indifferente per la costruzione di case quindi tendenzialmente una classe media senza entrare nel merito di che cosa significa oggigiorno una classe media quello che è interessante qui è che invece questa diventa un'opportunità per poter garantire la casa in termini di acquisto della casa o in termini di affitto sul lungo termine anche per persone che non sono in grado di mettere la quota di cofinanziamento per la costruzione del co-housing quindi viene fatto e questo è diciamo anche il momento in cui viene fatto diciamo la prima zappata del terreno per la costruzione viene fatto anche una campagna di crowdfunding questa campagna di crowdfunding che viene fatta con COP57 che è la è la cooperativa di servizi finanziari spagnola che è legata moltissimo al finanziamento etico con le dovute differenze potrebbe essere una banca etica ma molto più grande in realtà vista la storia spagnola comunque diversa con un rapporto diverso anche soprattutto in Catalunia nel rapporto con le cooperative e si occupa di creare una campagna di crowdfunding nel quale le persone avevano modo di investire nella costruzione del co-housing sono stati raccolti 865.000 euro da più di 200 persone che mettevano a disposizione i propri soldi con la garanzia di poterli ricevere nell'arco dei successivi tre anni a tasso zero quindi era chiaro che comunque è un investimento con un impatto diciamo che è un segno politico vengono prestati i soldi per questo progetto senza però necessariamente voler avere un profitto da questo investimento ma questo consente di avere la somma necessaria per gli investimenti iniziali della costruzione la casa viene costruita è quello che secondo me è interessante anche rispetto comunque a quelle che sono anche alcune delle riflessioni magari legate anche a tutta la questione che saranno sui super bonus del 110% che ci stanno adesso e quindi la valenza anche ambientale l'edificio viene costruito tutto in chiave sostenibile quindi comunque con materiali ecosostenibili viene fatta una progettazione collaborativa anche con gli abitanti delle case non tutte le case sono di proprietà alcune delle case vengono realizzate dalla cooperativa sulla base di affitti di lungo termine quindi questi sono anche alcuni elementi interessanti e questo è quello che appare oggi anche a livello insomma architettonico è anche interessante perché studiano comunque come spesso accade nei coavali un rapporto tra spazi privati spazi seni privati e spazi pubblici quindi per esempio il piano terra comunque consente di avere accesso ad alcune parti ci sono poi a ciascuno dei piani degli spazi condivisi con gli abitanti tra gli abitanti diciamo dello stesso pianerottolo e poi ci sono degli spazi aperti ma privati come appunto i balconi e le verande che vediamo qui nonché la terrazza di sopra e quindi qui vediamo anche alcune delle fotografie così insomma è interessante il fatto che per i non architetti questo potrebbe non avere un grande significato ma il progetto il premio del Miss Banderoe è il premio per architetti più prestigiosi in Europa è interessante che sia stato dato proprio ad una cooperativa di co-housing questo ha un significato anche diciamo un tentativo anche di portare all'interno del mondo dell'architettura e quindi anche dell'industria delle costruzioni un'attenzione sul tema del co-housing in una chiave politica diversa rispetto a quella comunque che spesso si trova come dicevamo legata magari più ad una classe medio alta e anche rispetto comunque a tutto il tema la cooperativa ha anche pannelli solari e così via perché comunque cerca di promuovere quanto più possibile l'autonomia anche energetica dell'edificio è un edificio passivo insomma tutta una serie di questioni che sono particolarmente interessanti quello che secondo me è interessante di questa cosa per anche cercare di riflettere su alcune delle questioni che potrebbero essere portate su Roma e comunque in generale maggiormente in Italia perché abbiamo esperienze di housing un po' più sviluppate nel nord ma comunque il centro sud ancora non ha avuto modo di sviluppare molto questa cultura è il fatto di lavorare innanzitutto con la pubblica amministrazione con la possibilità di avere terreni a disposizione quindi con un investimento pubblico politicamente importante sul lungo termine a fronte di un modello economico sostenibile per la comunità stessa che faccia in modo di garantire comunque il diritto alla casa a tutte le persone che vi abitano e quindi comunque di essere direttamente titolari all'interno della cooperativa della casa alla quale hanno accesso e quindi un modello nel quale comunque c'è anche una collettivizzazione di quelle che sono le battaglie legate alla casa e la possibilità di garantire anche la sostenibilità economica di questa operazione perché questa operazione è comunque qualcosa che riesce a ripagare anche i prestiti che sono stati dati dalla collettività non di abitanti del co-housing ma diciamo di supporter più ampi con la nostra organizzazione abbiamo comunque promosso anche noi il contributo simbolico piccolo che ci potevamo permettere noi ma questo ha modo comunque di rientrare anche tra quelli che sono gli investitori di una comunità più grande e quindi questo lo trovo un dato particolarmente rilevante se avete domande interrompetemi altrimenti io siccome non vi vedo perché sono con lo schermo piano io proseguo insomma intanto vi vorrei portare invece nel caso di Vienna qui avendo in realtà nel caso di Vienna una tradizione importante innanzitutto di housing sociale tanto per darvi un'idea il 45% delle abitazioni nel comune di Vienna sono di proprietà del comune sono tutte l'equivalente ho sentito una voce di sottofondo non so se era una domanda o qualcuno semplicemente solo che ci ho messo un po' aprire il microfono chiedo scusa allora prego volevo farti ancora una domanda per prima la parte che va in affitto a chi rimane di proprietà di proprietà della cooperativa della cooperativa della cooperativa stessa quindi gli affitti della cooperativa servono comunque poi a ripagare le spese della cooperativa stessa sono ovviamente degli affitti estremamente calmirati è cooperativa che ha costruito ma che poi non gestisce o gestisce delle cose gestisce anche assolutamente gestisce sì sì e cosa gestisce all'interno di questa di questa esperienza di questo co-housing gestisce tutte diciamo diciamo tutto il condominio quindi comunque gestisce tutta la parte che è legata al condominio stesso e quindi completo la domanda sì sono una sempre di numero zero noi come numero zero abbiamo dovuto sciogliere la cooperativa perché la legge italiana prevede che una cooperativa accantoni un capitale che in venticinque anni recuperi il valore dell'immobile perché in Italia le cooperative edilizie sono fatte per costruire altre case non per costruire la casa in cui si vive lì invece suppongo che che sia diverso loro non abbiano questo limite e quindi abbiano potuto tenere questo vincolo e quindi hanno potuto tenere attiva una cooperativa che come unico scopo quello di gestire gli spazi abitativi per i soci ed eventuali ospiti credo che sia così sì ovviamente non sono un'esperta della normativa spagnola in termini di cooperative quindi adesso non vorrei non voglio aggentrarmi in dettagli tecnici che non saprei neanche nella normativa non sono una giurista quindi non però vi posso dire che la cooperativa gestisce per i 75 anni in cui la terra è data dal comune dal comune l'accordo questo è un ottimo punto che mi stavo dimenticando di dirvi la terra viene poi l'immobile la cooperativa il co-housing verrà poi gestito dopo i 75 anni dal comune stesso ad oggi non ci sono i dettagli di cosa significherà veramente perché l'edificio è stato inaugurato quattro anni tre anni fa quattro anni fa quindi ovviamente parliamo di tra 70 anni si vedrà l'obiettivo però è che poi questo diventi parte diciamo dell'edilizia pubblica del comune di Barcellona che probabilmente ora non ve lo so dire avrà comunque un modello gestionale probabilmente misto insieme alla cooperativa però insomma ad oggi non è non è del tutto definito spero di aver parzialmente risposto alla domanda scusa Daniela ne approfitto invece anch'io per farti una domanda visto questa forte cooperazione con l'amministrazione locale all'interno di quel co-housing ci sono anche servizi pubblici cioè per dire no ci sono solamente attività che sono legate non ci sono servizi per esempio lo sportello del municipio del comune oppure un consultorio non ci sono servizi di questo genere no no in questo caso no grazie però rispetto a queste domande vi racconto io non voglio andare troppo lunga perché in realtà mi accorgo che chiacchierò quindi andrò un po' più veloce perdonatemi altrimenti non vorrei rubare spazio poi alle altre persone però vi vorrei portare invece in questo caso a Vienna stavo dicendo Vienna premesso che Vienna comunque è una città con una forte regia pubblica sul tema dell'abitare pubblico perché il 45% degli appartamenti sono di proprietà del comune fanno parte quindi dell'equivalente diciamo delle politiche del dell'Ater per capirsi ma gestite direttamente dall'agenzia del comune nel frattempo in questi anni anche lì è cambiato comunque stanno lavorando sempre di più in partenariato con il pubblico quindi all'interno di questo quadro è un'esperienza un po' peculiare quella di Vincirast che è invece anche qui una cooperativa che gestisce un co-housing però assolutamente svincolato dalla pubblica amministrazione è un'esperienza molto interessante vi devo fare un attimino un excursus in cui nel 2009 nel freddo inverno del 2009 a Vienne vi assicuro che ci ho vissuto per molti anni è molto freddo l'inverno lì viene occupata la facoltà di architettura e nell'aula magna per via delle riforme dell'università e nell'aula magna essendo l'inverno molto freddo vengono accolti i senza tetto che abitavano diciamo abitavano nel parco davanti all'università da qui nasce una collaborazione non molto comune fra studenti e senza tetto che viene gestita dall'associazione di Vinzi Rast che è un'associazione che si occupa proprio di accoglienza delle persone senza 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 dimora e quello che è molto interessante è che da qui nasce l'idea di creare un modello di co-house in congiunto per queste due categorie perché si erano trovate durante questa occupazione dell'università che è durata per svariati mesi comunque ad attivare effettivamente una collaborazione e quindi che cosa succede? viene donato a Vinzi Rast che è un'associazione molto importante a Vienna che si occupa appunto di inclusione sociale viene donato questo edificio da un privato era un edificio che andava ristrutturato ma era comunque un edificio in una zona molto centrale della città e si decide di rendere un po' a fetteria che le persone precedentemente senza fissa dimora hanno la possibilità di lavorare e vi mostro un pochino qui abbiamo uno spazio diciamo è tutto un sistema a ballatoio abbiamo una terrazza condivisa ci sono tre piani ognuno con due appartamenti con tre camere ogni appartamento naturalmente l'associazione di Vinzi Rast si occupa di fare anche l'accompagnamento per queste persone che molto spesso sono state in strada per molti anni con tutte le difficoltà psicologiche emotive ed economiche che questo comporta quindi comunque questa parte viene accompagnata dall'associazione ma la possibilità di vivere insieme è data comunque a collaborazione con gli studenti che hanno la possibilità di vivere in questo co-housing con un affitto molto basso fino a due anni sottolineo l'edificio è molto centrale quindi oltre diciamo a una visione diciamo di aderire comunque al progetto che naturalmente è anche emotivamente impegnativo quindi comunque gli studenti che decidono di aderire a questo progetto anche perché credono nel progetto però il fatto che l'edificio sia molto centrale vicino all'università e consente di avere un affitto basso è sicuramente un incentivo in più e qui vedete alcuni degli spazi in una giornata appunto di sole di Vienna e qui vedete alcuni in ognuno degli appartamenti c'è un piccolo spazio condiviso che sta accanto alla cucina e questa è la caffetteria del piano terra è stata ristrutturata anche qua comunque con un'attenzione rispetto comunque al riciclo dei materiali tutte quelle che vedete qua sono delle listelle di legno che sono fatte dalle cassette per i trasporti credo del vino o qualcosa di questo genere sono comunque tutti materiali riciclati che sono stati donati molto spesso anche dalla rete dei bar della zona e quello che è interessante è che è un bar che è assolutamente bellissimo e con un ottimo servizio in una zona centrale dove anche molte persone che non necessariamente sanno della missione sociale di questo spazio hanno la possibilità di andare e pranzare o prendere una birra la sera e questo è uno spazio nel quale possono lavorare gli abitanti del co-housing in modo da consentire a queste persone di avere anche un introito e quindi oltre a questo poi sul retro ci sono poi due laboratori uno sartoriale e uno di falegnameria dove le persone nuovamente in cui in realtà è più mirato agli ex diciamo agli ex senza tetto per capirsi in maniera molto schietta perché fanno parte anche del loro del loro percorso anche terapeutico di poter fare anche tutta una serie di attività artigianali nonché anche di poter fare un formazione per poter poi trovare trovare lavoro perché comunque questo è quello che è interessante anche rispetto a quello che si diceva di questo di questo co-housing che questo è un co-housing che non ha l'ambizione per nessuno degli abitanti di essere la casa per sempre è una casa che viene data a disposizione fino a due anni per gli studenti è una tappa fissa per le persone senza tetto è un periodo diciamo flessibile fino a quando non saranno autonomi di fatto questo è un periodo molto lungo quindi comunque sta diciamo alla valutazione del personale dei servizi sociali e dell'associazione che comunque hanno modo di valutare quando le persone saranno pronte per poi andare a vivere in maniera autonoma e questo è particolarmente interessante anche perché nella quota degli abitanti che sono all'incirca una ventina di persone 25 persone più o meno due terzi tendono ad essere persone senza tetto e un terzo sono invece studenti che quindi è un'esperienza abbastanza interessante e sarebbe probabilmente piuttosto interessante io adesso vi sto parlando da San Lorenzo penso alla presenza di studenti importanti e penso anche alla grande presenza di persone senza fissa dimora che sono in questo quartiere solamente pensando comunque ad un modello di questo genere c'è già una sinergia probabilmente tra molte delle realtà molte delle associazioni che operano comunque nel settore chissà che non si riesca a fare qualcosa di questo genere anche con i famosi fondi del PNRR che sono destinati anche a Roma per housing sociale ma con un focus sulle case per esempio per le persone senza fissa dimora pensare in questa chiave con il cosiddetto housing first che quindi sono le politiche su promozione dei fondi europei che vanno stanziate per creare alloggi per persone senza fissa dimora potrebbe essere qualcosa sul quale avremmo sicuramente esperienza di poter lavorare il terzo caso che vi voglio raccontare invece vi porto a Liverpool in Inghilterra anche qui un pochino una breve nota di contesto siamo a Liverpool città diciamo comunque ex industriale che quindi sin dagli anni fine anni 80 ha avuto diciamo un calo economico molto importante e negli anni 90 con le politiche diciamo molto di destra del governo inglese ha visto una privatizzazione sempre maggiore e una speculazione immobiliare sempre maggiore all'interno della città qui ci troviamo all'interno di uno dei quartieri storici dove questo è insomma un po' per dire uno dei quartieri dove sono nati i Beatles insomma tanto per capirsi sono delle case comunque sicuramente diciamo che ospitavano la classe operaia nell'ottocento quindi parliamo di edifici a parte di case su due piani molto modeste molto spesso comunque in condizioni molto precarie con servizi e dimensioni assolutamente non allo standard che si richiederebbe oggi sicuramente quindi andava fatto un intervento di rigenerazione perché le persone non possono vivere nelle condizioni idonee in queste case che sono generalmente delle case o di proprietà privata di persone che però sono comunque non in condizione di poter fare gli investimenti perché comunque è diciamo una classe non particolarmente abbiente o sono proprietà direttamente pubblica del comune di Liverpool che però non ha investito entrambi i casi quindi abbastanza mista pur essendo tutte uguali le case il modello di proprietà è misto comunque fatto sta che nella politica dei primi anni diciamo di intorno al 2008 2009 2007 scusate perché è stato subito prima della crisi economica del 2008 viene fatta una politica per la quale vengono chiuse porzioni dei quartieri e vengono mandate via gli abitanti succede però che subentra la crisi economica perché queste aree devono essere rigenerate con finanziamenti importanti privati e quindi rigenerare quest'area che invece come potete immaginare queste casette ristrutturate per bene potrebbero essere invece anche molto carine e essere anche molto appetibili per investitori privati questo non accade perché subentra la crisi economica quindi gli investitori privati non sono più interessati a fare questa operazione di speculazione immobiliare gli edifici rimangono abbandonati per molto tempo allo stesso tempo però molti degli abitanti che prima vivevano lì si ritrovano nella condizione di non avere più la possibilità di vivere nelle case in case a basso costo allora qui subentra un altro strumento che è uno strumento in questo caso che anche qui non vede la partecipazione della pubblica amministrazione anzi un rapporto molto conflittuale in questo caso ma la normativa inglese prevede la possibilità dell'istituzione di un community land trust che significa un trust fondiario che ha la possibilità di garantire alla comunità che abita in quell'area la disponibilità a lungo termine di alloggi a prezzi accessibili quindi ci sono tutta una serie di questioni che per essere sicuri diciamo che questo sia effettivamente un trust fondiario su base comunitaria deve essere con non profit deve avere una proprietà quindi che comunque è collettiva deve avere terre a disposizione e prezzi accessibili questo insomma vedete anche qua nella slide un pochino quello che è quelle che sono alcuni dei requisiti e quindi che cosa succede qui vedete un pochino quello che quello che stava accadendo i cittadini tramite anche qui perché il grosso problema è se una comunità non ha i soldi quindi se stiamo parlando di comunità non medio alto porchesi ma comunità che comunque molto volenterose molto appassionate ma che non hanno i soldi come si fa? serve fortuna in parte per cui in questo caso viene dato in disposizione un primo appartamento che viene donato da un abitante della città diciamo che comunque aveva a disposizione questo appartamento che andava completamente ristrutturato ma che crede nella causa e quindi decide di donare un primo appartamento per poter poi costruire questo modello sulla base di questo sono state fatte delle ristrutturazioni in autonomia e sono stati poi o in collaborazione con alcuni degli abitanti che erano ancora presenti nella strada o con una serie di mutui accessibili che sono stati dati da alcune banche etiche presenti in Inghilterra è stato possibile poi acquisire tutta una strada che è quella di Granby 4 streets che consente quindi che lavora su un modello diciamo quindi questo è anche interessante forse anche per Roma dove non necessariamente il co-housing deve per forza lavorare su una ristrutturazione diciamo su un edificio nuovo ma può avere anche un modello di rigenerazione di mobili di mobili preesistenti questo mi rendo conto che è un caso un po' forzato di co-housing perché non è è uno spazio che per come erano pensati gli edifici sono delle case individuali sono degli appartamenti sono degli appartamenti su due piani dove vivono le famiglie ma è interessante che comunque lavorano come co-housing in un certo senso perché sono una cooperativa di tutta la strada che quindi si occupa di lavorare sulla ristrutturazione degli edifici perché ovviamente le famiglie che vanno a viverci non hanno la possibilità di investire i soldi per poterlo fare se non con diciamo i costi di materiale e perché hanno fatto anche in modo tale di includere all'interno di questo di questo modello anche attività commerciali questo è stato anche anche qui è interessante perché sono delle attività commerciali che quindi non hanno uno scopro di lucro in sé per sé ma sicuramente il sostentamento dei commercianti che vanno ad aprire l'attività ma sono delle attività commerciali anche queste di comunità che hanno la necessità diciamo di servire di offrire scusate quei servizi di base che servono diciamo all'interno di un quartiere quindi anche per esempio l'accesso al cibo l'accesso comunque ad alcuni servizi appunto di base e qui vedete insomma alcune delle delle fotografie vedete un prima e un dopo quindi quando gli edifici vedete erano abbandonati e quando invece sono stati abitati e ristrutturati qui io vi metto a disposizione anche alcuni alcuni link io in realtà sono un po' chiacchierona e quindi ho superato un pochino anche il tempo che avevo promesso che avevo promesso quindi scusate però mi mi taccio qui e passo e passo la parola non so se ci sono delle domande per chiarire qualcosa altrimenti andiamo avanti Daniela scusa solo una precisazione su proprietà duale che era scritta nell'ultima esperienza cosa si intende? sì effettivamente la proprietà duale è perché l'edificio dunque questo non l'ho spiegato scusate allora è divisa la proprietà della terra dalla proprietà dell'edificio sopra scusate è un elemento fondamentale non ve lo non l'avevo menzionato quindi duale perché il trust è proprietario della terra e l'abitante o la comunità è proprietaria dell'edificio questo che cosa significa? che non puoi svenderlo perché non avendono essendo proprietario del terreno sotto tu devi avere per forza l'approvazione del community land trust per poter fare per esempio una cessione a qualcun altro dell'appartamento e qualora fosse un'attività speculativa o a delle persone che non aderiscono a quelli che sono i valori del community land trust e il community land trust ha il diritto di dire che non può essere venduto l'appartamento e da lì poi si decide se viene comprato dal community land trust e vede eventualmente rivenduto e così via è qualcosa similabile in Italia alla nuda proprietà cioè la suddivisione tra usufrutto e nuda proprietà non è del terreno ma è della casa conosci casi di esperienze di co-housing in cui hanno utilizzato questo discorso per una proprietà duale in quel senso tra ad esempio una cooperativa che detiene la nuda proprietà e i co-houser invece che sono gli usufruttuari in un certo senso forse il caso di Vienna che vi raccontavo potrebbe essere qualcosa di forse analogo rispetto a quello che avevi in testa perché effettivamente la Vinzirast la cooperativa è proprietaria dell'immobile però diciamo in un certo senso gli abitanti sono degli affittuari o addirittura che non pagano come le persone che erano senza tetto o come gli studenti che pagano un affitto psicologico potrebbe essere non so se forse questo può essere qualcosa di lontanamente simile ora su due piedi non mi vengono in mente va bene ti ringrazio grazie a voi a questo punto introduco Andrea Alzetta che è uno dei fondatori dello Spin Time Lab che è è un esempio di co-housing e co-working con varie esperienze di co-working all'interno di questa esperienza romana molto significativa perché è la più grande forse in Europa di mescolanza di abitanti che vengono da paesi diversi culture diverse e quindi con anche grandi problematiche di gestione della della democrazia interna non a caso Sabina Guzzanti ci ha girato il suo che fatica la democrazia quindi passo la parola ad Andrea che spero ci racconti questa storia molto emblematica di Roma dove i rapporti con la pubblica amministrazione sono sono forse l'elemento non sono esattamente come quelli che raccontava Daniela Patti però diciamo l'elemento comune con con Barcellona è che tu sei uno dei maggiori esponenti della lotta per la cosa Adagolao quindi ti passo la Adagolao ha vissuto prima di diventare sindera di Barcellona anche l'occupazione di The Lawless che ciò avevamo qui con Action e non so se abbia preso anche qualche cosa o no lei dice di sì però il tema di come le pubbliche come le pubbliche amministrazioni funzionano non è proprio indifferente rispetto anche alle cose che diceva Daniela e non è che adesso voglio fare un paragone Gualtieri che insomma ancora dobbiamo misurarlo da questo punto di vista con Adagolao però guardate che il 90% delle cooperative che hanno realizzato l'housing sociale a Roma hanno usato i contributi solo pubblico contributi fino al 90% per la costruzione e poi si sono vendute al libero mercato cioè perché appunto anche la cultura dell'amministrazione in passato non ha garantito una grande trasparenza perché poi è roba sempre di poter realizzare alcuni progetti e realizzarli fino in fondo perché gli esempi che faceva Daniela poi abbiamo visto le foto di edifici che una volta erano abbandonati comunque messi male oppure non c'erano proprio e poi adesso ci sono dei palazzi e qui i palazzi li costruiscono con una concezione che è solo immobiliaristica è solo cioè che l'urbanistica non sa neanche lo stato di casa cioè Roma è cresciuta quasi tutta fuori dal piano regolatorio non a caso perché poi quando ci sono delle opere pubbliche fatte bene io penso al quartiere in a casa al quadraro c'ha tutti i spazi pubblici come il co-housing e lo faceva appunto lo stato lo faceva là quello che era lo IACP anzi direttamente lì in a casa lo faceva lì in a casa appunto non lo IACP comunque faceva enti pubblici Spintime è un esempio interessante secondo me di rigenerazione urbana se non si chiude dentro Spintime cioè se riesci a rigenerare il quartiere io credo che non esista cioè che non esista la possibilità di costruire isole felici e queste trasformino qualcosa le isole felici servono a quelli che ci stanno dentro e se fanno più o meno l'affare loro per cui io credo che o le cose esplodono anche nella dimensione poi del contesto in cui vivo in esperienza oppure magari hai costruito una bella una bella cosa ma non ha significato politico cioè è una sperimentazione io mi so anche sarà che c'ho anche una certa età mi so anche un po' stufato di essere sempre una sperimentazione io vorrei che quando una sperimentazione funziona diventa un modello e diventa una politica invece qui stiamo sempre a fare sperimentazioni un po' me rompe perché qui abbiamo una letteratura ormai c'è anche alcune esperienze che citava Daniela effettivamente in Piemonte anche a Milano esistono funzionano ma sono riferite appunto ai sceti medi medio bassi comunque gente appunto che ha la cultura di poter fare una cooperativa se noi dobbiamo parlare di emergenza abitativa a Roma i dati del comune dicono che sono cinquantasettemila le persone in emergenza abitativa e quindi occorre anche un piano straordinario fatto anche di cose come Spintime fatto anche di differenziare gli interventi perché secondo me solo l'ERP non risponde proprio alla dimensione del problema e quindi occorrerebbe oltre che incentivare le politiche pubbliche con l'ERP anche mettere nuovi strumenti e in questo caso alcuni suggerimenti che diceva Daniela secondo me sono da da contestualizzare da adattare alla realtà romana ma parliamo sempre appunto di alcuni pezzi sociali cioè dai senza fissa dimora agli studenti fuori sede ai migranti che hanno un progetto temporanei nella nostra città e allora queste cose appunto se incastrate dentro una dimensione pubblica più generale possono funzionare si sono messi in concorrenza gli uni con gli altri come purtroppo spesso avviene perché poi non si fa né per uno né per l'altro almeno strane che per il mercato quindi quindi dal suo punto di vista il governo pubblico di processi di trasformazione è importante io vi racconto un secondo cosa noi abbiamo stiamo cioè stiamo perseguendo a Spintime perché Spintime oltre ad essere appunto questo edificio che era dell'Impada per la direzione generale dell'Impada quindi era niente pubblico sostanzialmente che è stato appunto messo con la finanza creativa dentro un fondo speculativo cioè un fondo investire SGR che era diciamo il ramo immobiliare della banca Nattino una banca d'affari anche fra virgolette con questo Gian Paolo Nattino non proprio un signore non ho capito bene come mai Tremonti forse sarà parte della creatività riuscita appunto a consegnarli ben su 397 immobili che avevano detto questo il fondo immobili pubblici costituito da Tremonti nel 2004 li ha dati sostanzialmente a questa società a veicolo facendoli guadagnare un miliardo e tre un miliardo e non sto dicendo non sto sbagliando con milioni un miliardo e 300 milioni li ha guadagnati solo per fare la società a veicolo dite questi 397 immobili ne ha venduti ne ha messi sul mercato la metà il resto sono abbandonati noi abbiamo occupato nel 2013 al 12 ottobre 2013 questo era già abbandonato da 5-6 anni e quindi in realtà questo non l'aveva neanche messo in vendita la famiglia il fondo investire quando è stato occupato da appunto 180 famiglie abbiamo pensato che stavamo in un contesto un po' particolare perché stavamo appunto a via Santa Croce in Gerusalemme c'era il centro dell'Esquilino dentro la via Santa insomma sostanzialmente e non potevamo fare un ghetto dentro il centro storico dovevamo fare una cosa appunto che riuscisse a dialogare col territorio e credo che appunto l'idea di mettere le 180 famiglie dal primo piano al settimo ma poi anche di lasciare il piano terra i due piani sotterranei invece dare 5.000 metri quadri al quartiere alle realtà che volevano costruire un progetto insieme è stata una cosa che ha funzionato perché poi ha costruito un riferimento per le scuole del quartiere per le parocchie per tutto l'associazionismo e siamo oggi abbiamo costruito oltre che degli strumenti che ci permettano oltre che di rispondere a dei servizi ci sono i vari sportelli di tutela legale per gli immigrati ci sono le scuole di italiano c'è la scuola popolare ci sono decine e decine di laboratori oltre che attività diciamo culturali più o meno permanenti abbiamo costruito un co-working proprio per provare a costruire un intreccio fra chi vive in quel palazzo e i saperi i saperi creativi della città dal punto di vista appunto della trasformazione urbana delle politiche pubbliche delle politiche di welfare comunitario della produzione culturale e potrei continuare a lungo con l'idea appunto di costruire una progettualità come costruendo appunto una sorta di polo civico dell'esquilino abbiamo messo in rete una trentina di realtà anche fra le più importanti del rione dagli assoluzioni genitori di tornato al csv piuttosto che a case dei diritti sociali e piuttosto appunto le realtà tipo spintai ma demù scomodo e tanti altri dentro l'idea appunto di poter costruire un'esplosione di spintai nel territorio cioè l'idea che appunto solo riprogettando insieme la città riusciamo a inchiodare la pubblica amministrazione alle sue responsabilità sono uscite sentenze della corte costituzionale decreti ministeriali che dicono che la coprogrammazione della coprogettazione tra terzo settore e pubblico è un dovere della pubblica amministrazione ed è preferibile questo strumento per esempio al bando che invece mette le realtà del territorio in concorrenza l'une con le altre dovremmo avere una capacità a me non piace tanto dal basso perché dal basso sembra che sei in cretino invece da sto punto di vista dovremmo avere una capacità di costruire insieme un quartiere una comunità aperta solidale accogliente sapendola però progettare sapendola immaginare collettivamente e anche realizzare attraverso anche delle capacità dei saperi delle competenze che mettiamo in comune quindi l'idea che stiamo provando a realizzare non è solo l'avvertenza col comune per ristrutturare il palazzo e appunto far far nascere davvero il progetto di rigenerazione di quel palazzo anche perché la scusa che usano la proprietà per cacciarci via è che loro avrebbero un bel progetto di rigenerazione urbana anche loro peccato che appunto forse questa è veramente una cosa che restituisce un'idea di rigenerazione urbana che è la vecchia speculazione vecchia o nuova speculazione con la foglia di Fico Green per intercettare i fondi e PNRR noi stiamo dicendo invece al comune i soldi e PNRR servono per recuperare quegli edifici che già sono appunto vivi già sono hanno degli elementi di comunità di lotta di dinamica di rapporto col territorio che mettono insieme una rigenerazione urbana con anche una rigenerazione sociale cioè capace di costruire forme di economia circolare forma di welfare comunitario proposti educative per la comunità piuttosto che attività sportive culturali ricreative in genere per cui dentro Spintime noi stiamo dibattendo di questo cioè come riusciamo a far sì che non stiamo sulla difensiva perché c'è lo sgombro perché in realtà io sono abbastanza tranquillo perché vengono migliaia di giovani tutti i giorni a scomodo a studiare nel studio a affrontare il posto all'iniziativa a produrre proposte culturali a Spintime un po' di meno perché siamo più vecchietti siamo meno dinamici però vengono comunque centinaia di persone ogni giorno abbiamo costruito appunto questa rete sociale che abbiamo chiamato Polo Civico dell'Esquilino e vorremmo appunto cioè avremmo l'ambizione di ragionare su come trasformare il quartiere perché su questo credo troviamo anche quelle alleanze sociali che sono l'unica condizione per avere un rapporto sia onesto fra di noi anche come realtà diverse fra appunto un'associazione come l'associazione dei genitori le parrocchie Spintime però insieme se uno trova appunto il minimo comune denominatore di un'umanità che secondo me è di fronte a un paese che vuole che tutto mette nel metto pronto a andare in guerra che sarebbe bene che ritroviamo un po' di calma invece vedo tutti troppo agitati e però per costruire appunto un antitolo al razzismo all'egoismo alla chiusura alla solitudine che si vive nei quartieri o se riesce a ricostruire progetti per tanti che possono stare insieme o se no le sperimentazioni singole rischiano di essere belle però appunto anche inefficace a rispondere invece a un cambiamento io credo che la rigenerazione urbana perché tu hai fatto riferimento a Rodotà o si coniuga con un processo di trasformazione sociale oppure un bel disegno e rischia di rimanettare non so se avete domande io non so manco tanto ben che dire perché noi co-housing lo viviamo un po' forzatamente quindi molte volte c'è la fila accesso la mattina vanno a lavorare non è proprio un piacere in comune per cui il nostro co-housing ha degli aspetti che invece appunto chiedono alla pubblica amministrazione di trasformare quelle quell'occupazione in case vere e proprie case pubbliche con la dimensione appunto anche come metriquati dell'ERP con i bagni in stanza possibilmente con i servizi che sono igienici in casa insomma e per anche appunto fare un progetto che non è che si ferma e si accontenta di vivere male là noi vorremmo vivere bene là e vorremmo che anche tutti quelli che vivono intorno a noi di essere bene hai ragione ci sono anche problemi ci sono stati mi dicevano problemi di riscaldamento l'inverno non tutti gli appartamenti sono riscaldati però ad esempio durante il periodo della pandemia è successa questa cosa meravigliosa che mi è stata raccontata di giovani di scomodo che hanno recuperato tutto il piano sotterraneo ed è diventato uno spazio bellissimo beh lì hanno fatto un progetto particolare a favore di quello che diceva Daniela prima loro per esempio non sono stati scemi come noi che facevamo un concertino alzavamo due sordi e con tutto materiale riciclato ma obbligatoriamente non tanto perché eravamo eticamente bravi abbiamo rifatto appunto banconi sedi e tavoli riciclando tutta la roba però da questo punto di vista l'abbiamo fatto in svariato tempo e con svariata fatica loro sono stati molto intelligenti di noi sono andati da banca etica due di loro senza fare nessuna cooperativa sono accollati e buffo del 35 mila euro hanno messo questi soldi per i materiali e per quattro persone che facevano il mastro che faceva appunto il muratore per l'idraulico il falegname elettricista e hanno fatto 1700 turni di lavoro volontari ragazzi di scomodi o meno una settantina di persone al giorno che lavorava ogni giorno in due mesi hanno fatto un posto che è venuto così bene perché hanno fatto una chiamata una call come si dice adesso fra i giorni agli architetti romani e hanno risposto 240 architetti con appunto altrettanti progetti sono selezionati i sedici che poi sono dei coordinati dallo studio albise e chirimoto che è quello di Renzo Piano per capirci a Roma e con molto entusiasmo che si erano messi appunto a mettere insieme questi progetti hanno fatto un posto che è veramente molto bello anche dal punto di vista di immagine il tema è che appunto bisognerebbe aiutare questi processi invece appunto adesso anche scomodo insieme a Spintain è sotto sgombro perché appunto c'è una logica che è la logica per cui tutto deve essere appunto rapportato al mercato che non riconosce neanche il valore che migliaia di giorni si organizzino cioè tutti dicono i giorni non fanno niente loro sono una fucina di idee dei progetti di cose e non si capisce secondo quale logica appunto la pubblica amministrazione si pone il problema invece che di regolarizzare Spintain ma di farlo morire io credo che appunto non ci riusciranno non ho minimamente paura se vengono appunto noi non se ne andiamo e comunque soprattutto non se ne andiamo se vengono migliaia di persone che insieme a noi provano a cambiare il quartiere insomma la scommessa ma certo perché poi se funziona da una parte lo vuole anche replicare esatto esatto quindi mentre tanti giovani erano chiusi in casa dietro il loro computer con una povertà relazionale enorme i giovani di scomodo hanno fatto rinascere la mattina e la sera ottimo hanno fatto studio che dalle otto e mattina fino alla mezzanotte è piena come nuovo e anche dei figli degli occupanti evidentemente dentro le stanze rimediate diciamo dell'occupazione non riuscivano a seguire la dad per esempio e invece detto scomodo c'era un aula studio che gli consentiva con una connessione buona con i computer a disposizione e riuscivano a farlo anche la comunità qualche volta riesce a risolvere i problemi e questo non si può cancellare quindi ci saremo se dovessero venire a sgomberare lo stintime passo la parola a Maurizio che introduce l'ultima relatrice grazie Andrea Allora ho il piacere di introdurre l'ultima relatrice Piera Salvano che diciamo rappresenta questo diciamo il numero zero questa cooperativa che ha operato diciamo materialmente nel campo del co-housing realizzando una diciamo un'operazione del tutto innanzitutto di come dire di avanguardia di avanguardia eccetera ma e quindi è del tutto meritevole ma anche poi portandola avanti perché in maniera concreta nel quotidiano fino ad adesso insomma io volevo partire mi piace questa cosa perché è un come dire partendo anche dall'ipotesi che aveva fatto Antonella diciamo a proposito della 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 rivoluzione francese della rivoluzione francese ma che c'entra la rivoluzione francese no in realtà in qualche modo c'entra perché è appunto il motore di sviluppo di tutte le problematiche lo dicono le parole la libertà e egalità queste sono sono le parole che nel tempo si sono trasformate in nel concetto di liberalità poi per altre questioni ideologiche di liberismo e legalità è il comunismo cioè il comunismo si si struttura sulla su un principio di uguaglianza eccetera sulla fraternità avrei qualche dubbio di interpretativo però io lo immagino come una possibilità dialettica che che poi che poi porta all'ultima parola che però è mancante per completare il quadro che è la T cioè il concetto si completa con la parola left cioè la T è la trasformazione cioè la capacità di trasformare la realtà dopo una dialettica diciamo tra tra le parti ecco diciamo poi tra l'altro adesso ci abbiamo anche un un settimanale che si chiama proprio left no e il cui diciamo che è diretto diciamo egregiamente da Simona Maggiorelli che ci dà questa che ripropone questa immagine storica insomma vabbè comunque insomma per dire quando la rivoluzione francese naturalmente produce idee utopie eccetera una cosa che mi piace ricordare molto è che una citazione storica è che una delle prime primissime diciamo utopie sperimentazioni sociali sono state fatte nel regno di Napoli dai Borbone cioè il famoso San Leucio è un esempio proprio clamoroso di co-working cioè nel senso che praticamente aveva messo insieme l'abitare e il produrre e lì c'erano delle aveva chiamato tutti i maestri che si occupavano della produzione della della seta da tutta Europa quindi addirittura c'era un precedente un precedente che riguardava la diciamo la l'attuale comunità europea venivano dalla Francia dal Belgio insomma quindi una visione molto molto ampia comunque rapidamente torno poi vabbè poi c'è Owen tutte quelle grandi utopie eccetera per dire che però diciamo poi si è arrivata alla concretezza alla concretezza invece del numero zero cioè nel senso che queste però mi piace inserire diciamo questa cosa in una storia che è umana che è lunga insomma che è molto ed è molto appassionante insomma rispetto alle finalità e quindi ecco questa cooperativa ci ha mostrato secondo me una cosa importantissima una intanto che gli esseri umani hanno come dire una naturale predisposizione alla alla convivenza cioè non è non poi sono smentiti alle volte dalla storia però però insomma la sostanza è quella che gli esseri umani hanno una voglia di stare insieme di convivere di stare bene di condividere non solo le esperienze anche le cose materiali eccetera che hanno un'attenzione all'ambiente hanno un'attenzione a tante cose che sono state dette qui e poi poi diciamo ci hanno veramente illustrato un metodo un metodo per procedere alla diciamo alla alla realizzazione un metodo molto concreto che è iniziato con la ricerca dell'immobile con la ricerca dei finanziamenti con una tematica molto interessante che è la coprogettazione e la progettazione cioè il rapporto poi dei fattori amministrativi eccetera tutte queste cose vabbè non proseguo molto però lascio il campo però la mia curiosità è questa diffondere anche nelle cose che ci diranno è anche la mia grande curiosità di diffondere la storia con anche come si è trasformata questa storia nel tempo perché hanno un'esperienza consistente che ci possono illustrare cioè nel senso una volta realizzato il progetto loro hanno poi messo in pratica tutte le cose e se questo progetto è durato evidentemente era un progetto la cui struttura portante era piuttosto solida e con questo lascio lo spazio ringrazio moltissimo di questa presentazione va bene così si sente ringrazio di questa introduzione mi sentivo piccola piccola perché abbiamo navigato su dimensioni molto più ampie e lontane da noi mentre noi siamo una realtà di tipo collaborativo ma una realtà per certi aspetti piccola e privata provo a condividere lo schermo se ci riesco ok aspetta qua se trovo la presentazione perché vi volevo far vedere alcune fotografie e mi piaceva tu hai detto una cosa e mi piaceva proprio cominciare da dove siamo e che cosa siamo adesso mi piaceva andare a ritroso nel senso che noi siamo circa venti persone otto famiglie quindi ci sono dei nuclei mono monopersonali diciamo tre signore sole e gli altri sono delle famigliuole e delle coppie siamo arrivati che c'era una bimba sola e ora ce ne sono quattro quindi c'è stata anche un'evoluzione c'era una signora sola che adesso ha un fidanzato e quindi abbiamo avuto un'evoluzione anche personale da questo punto di vista siamo a Torino siamo nella zona di Porta Palazzo che è il mercato della frutta della verdura più grande d'Europa in una zona dove incontriamo andando per la strada tutto il mondo perché è una zona molto multietnica e siamo proprio nella via all'angolo proprio all'angolo della piazza nella via dove il sabato c'è il balloon quindi sotto le nostre finestre di sabato c'è il mercato dell'usato di domenica una volta al mese c'è il gran balloon questo in qualche modo ha un po' segnato anche la storia delle persone che sono venute ad abitare qua cioè è stata se vuoi una prima discriminante il fatto che alcune persone la nostra storia è cominciata dall'associazione coabitare cioè noi noi io non ero tra i primi ma già nel 2005 quando in Italia proprio quasi non si parlava di co-housing un gruppo di persone qui a Torino ha cominciato a documentarsi e a cercare di diffondere la cultura del co-housing prima di tutto proprio con delle iniziative pubbliche in cui si parlava di questa cosa contatti con le amministrazioni e un gruppetto di persone all'interno di questa associazione hanno visto che potevano condividere alcune scelte il luogo dove andare ad abitare la tipologia di interessi di valori che avevano e hanno cominciato come diceva lui a cercare un immobile e devo dire quindi siamo passati dall'associazione a numero zero come storia particolare hanno trovato un edificio che era direi in pessime condizioni ma era in questa posizione molto carina e fortunatamente già a quell'epoca era completamente vuoto di un unico proprietario allora qui vabbè paragonandoci tutti qui siamo in una situazione in cui tutti privati abbiamo tirato fuori i soldi di tasca nostra trovando comunque un'alleanza nella banca etica perché la banca abbiamo formato una cooperativa perché all'inizio l'acquisto è stato fatto dalla cooperativa come vi diceva Bruna che purtroppo ho dovuto andare via abbiamo assunto la forma di cooperativa edilizia quindi l'acquisto è stato fatto come cooperativa edilizia questo ha permesso di fare un acquisto non c'era ma mi hanno raccontato che una sera erano in cinque hanno deciso di raccogliere tutti i soldi liquidi che avevano e di andare a proporre al proprietario l'acquisto a quei tempi acquistavano ancora i costruttori noi a Torino cioè quindi è stato soffiato sotto il naso anche perché questo proprietario unico si è un po' innamorato della cosa è stato soffiato sotto il naso a delle a dei a delle come si dice ditte edilizie che ne avrebbero fatto una ristrutturazione senz'altro in altri modi perché Portapalazzo già allora ma soprattutto adesso è un punto di gentrification della nostra città è proprio noi siamo vicinissimi al centro di Torino e quindi quest'area è un'area molto appetibile tant'è che dopo di noi sono arrivati dei grossi investimenti privati su quest'area quindi è stata così se vuoi una fortuna avere trovato quest'immobile che poi siamo riusciti ad acquistare e così queste come era allora proprio con tutta una serie di cose da rimettere a posto e aveva però una struttura se vuoi molto carina dal punto di vista lo si vede questa corte dal punto di vista del pensiero che potesse essere un luogo ricorda proprio le vecchie corti tra l'altro il fabbricato che c'era l'abbiamo abbattuto ed è diventato un giardino e poi abbiamo lasciato la struttura abalcolata quindi diciamo sempre che ci passiamo sui piedi per andare a casa invece di escludere la possibilità di incontrarsi anche qui e quindi c'è stata questa abbiamo avuto un'altra grande fortuna che è stata quella di avere all'interno del nostro del nostro gruppo delle persone dei professionisti un ingegnere un architetto che hanno lavorato davvero insieme a noi nel senso che questo edificio ha un piano interrato che abbiamo poi utilizzato per dei servizi tre piani in cui abbiamo ricavato gli otto alloggi un negozio pian terreno che continuiamo ad affittare pure cose diverse ma per il momento continuiamo ad affittare e ci dà un po' di respiro per le spese e un grandissimo terrazzo 75 metri quasi di terrazzo che guardano la piazza quindi devo dire che dal punto di vista strutturale è veramente veramente interessante quando siamo diventati tutti si è preso proprio un pezzo di carta sono stati lasciati in piedi nel disegno perché allora era solo un disegno i muri maestri e poi si è giocato a riempire questo disegno con gli appartamenti tenendo in considerazione ovviamente decidendo alcuni spazi comuni che sarebbero stati lasciati però poi per il resto andando a braccio su quale poteva essere la necessità di ognuno dei partecipanti o delle famiglie che allora erano già famiglie e siamo riusciti a costruire otto appartamenti che qua si vedono tra l'altro abbiamo proprio giocato perché i nostri progettisti ci hanno lasciato andare a ruota libera non ci sono due appartamenti uguali anche quelli che sono l'uno sull'altro quindi non abbiamo le condotte dell'acqua dei bagni che devono stare tutti nello stesso punto quindi è stata veramente ecco devo dire che il gruppo era il primo gruppo era formato da cinque persone che si si conoscevano ma non tanto nel senso che poi nessuno di noi aveva una storia di amicizia precedente quello che ci teneva unito era proprio quest'idea di pensare di progettare di vivere di progettare una casa dove ci fosse un modo di vivere collettivo quando dicevamo un nuovo mondo un nuovo modo di abitare vecchio come il mondo nel senso di pensare proprio a quelle che erano le vite di tipo familiare allargato con gli svantaggi ma anche i grossi vantaggi poterli ricreare a livello elettivo cioè scegliendosi le persone che in questo momento tu volevi come compagio di viaggio e dal punto di vista del progetto abbiamo proprio tenuto conto come già qualcuno diceva della parte architettonica della parte del risparmio energetico e delle regole che volevamo condividere nel senso che anche la scelta degli spazi comuni che nel co-housing non è mai data per scontata ecco è una scelta che di solito fa il gruppo questo ha potuto ha fatto in modo che mettessimo in comune proprio le cose che volevamo fare e quindi abbiamo cercato una progettazione rispettosa di quello che era la struttura dei materiali possibilmente ecologici una flessibilità anche nel tempo degli spazi pensando anche ad eventuali trasformazioni non so i pianterreni che in qualche modo servivano alle persone più anziane avrebbero potuto poi anche essere riutilizzati da altri senza considerarci proprietari fino in fondo proprio solo del nostro spazio ma di tutta la casa eh la distribuzione che favorisca l'interazione e gli spazi comuni che sono quelli più facilmente accessibili perché sono quelli a piano terra allora vabbè qui vi facciamo vedere alcune immagini che tra l'altro sono immagini di quando lavoravamo perché è stato fatto anche questo sempre per questa fortuna che abbiamo avuto sì c'era un cantiere che operava quindi avevamo i professionisti però abbiamo usato tanti sabati e domeniche quando il cantiere era chiuso per andare sul terrazzo a pulire le ringhiere a pitturare le ringhiere a giocare con i bambini che hanno cominciato a conoscere la casa quindi questo è un po' stato un modo per conoscerci all'interno del percorso di progettazione dal punto di vista del risparmio energetico io non sono la più brava perché non mi opo però abbiamo cercato di fare il possibile con quello che si poteva fare il nostro è considerato un edificio storico quindi non abbiamo potuto fare un cappotto esterno abbiamo invece fatto un cappotto interno che ci ha portato via anche dello spazio però abbiamo scelto di farlo altre cose il riscaldamento pavimento la caldaia la ventilazione meccanica controllata che è quella che mi mette sempre in crisi perché il mio ingegnere mi dice che non devo aprire le finestre io appena vedo il sole apro tutto perché ancora non sono entrata nell'ordine di Deva e tra l'altro poi abbiamo fatto anche fin dall'inizio molti acquisti di gruppo non so c'erano le cucine di induzione abbiamo comprato nella forma del gas tot cucina di induzioni tot altre apparecchiature che potessero servire che ha è stato anche un risparmio dal punto di vista economico questa cosa che abbiamo fatto beh qua ci sono qualche foto di quando stavamo lavorando i pavimenti tutte le cose che siamo riusciti a fare comunque direi che possiamo andare avanti se no vi faccio vedere queste cose qui io non soltanto io che non capisco niente di architettura però siamo diventati quasi degli esperti perché i nostri progettisti ogni volta ci spiegavano tutto rispetto a quello che sceglievamo che cosa potevamo fare che cosa non dovevamo fare quindi questo io ad esempio ho questa casa fatta a trapezio e ne abbiamo tre una sull'altra però ognuna se le è costruita come preferiva abbiamo appunto la regola prima era questa che si costruivamo tutta la casa tutto il condominio ecco e poi insieme abbiamo anche espresso il parere su tutto e abbiamo scritto un regolamento di condominio che prevedeva sì le parti solite che si usano ma prevedeva ad esempio anche come avremmo eventualmente venduto o affittato le case quindi aveva perché è successo così ve lo accennava Bruno abbiamo fatto la cooperativa edilizia ma proprio per questo tipo di legge italiana poi alla fine abbiamo sciolto la cooperativa abbiamo assegnato gli appartamenti singoli ai proprietari e abbiamo aggiunto nell'atto vabbè le parti condominiali come si fa sempre scale così però ci abbiamo anche messo gli spazi comuni che abbiamo suddiviso a seconda alcune cose a seconda dei millesimi alcune cose a seconda delle persone abbiamo fatto tutto un lavoro proprio per fare al meglio questo tipo di eh di lavoro che esprimesse in qualche modo la nostra proprio il nostro il nostro desiderio ecco allora vi faccio vedere un po' di prima e dopo della trasformazione questo è il nostro condominio adesso non ho trovato una foto adesso c'è un grande glicine c'è un sacco di verde tutti quelli che passano qui davanti si incantano a guardare però io sono un po' imbranata con le foto non le sapevo mettere nello stesso punto in cui ho messo queste altre cose ma ve li faccio vedere alcune da sole dopo ecco siamo riusciti qui e comincia ad essere colorato mentre facevamo le ringhiere poi abbiamo scelto un metodo siamo abbastanza ecologici anche dal punto di vista del movimento quindi abbiamo 15 bici su 20 che abitano qui siamo riusciti ad appenderle in verticale adesso questa questa staccionata è tutta coperta di verde e quindi siamo riusciti ad appendere le bici in modo abbiamo un'unica cassetta delle lettere fuori e poi ci suddividiamo la posta con queste cose colorate perché io credo che è una cosa importante anche proprio la bellezza di questi di questi luoghi oltre che la funzionalità perché mi sembra che sia proprio importante che siano degli spazi in cui si sta bene qui si può vedere appunto cominciano ad esserci un po' di fiori riusciamo a mangiare sul terrazzo tutti insieme e quindi con questi spazi ecco qui è quando siamo venuti ad abitare ed è un altro tema che mi sembra importante che è il nostro inserimento nel quartiere noi abbiamo cercato di entrare in relazione con il quartiere e ci siamo credo riusciti un po' perché diamo un'immagine di per sé di bellezza e di cura della casa che è la prima cosa che diamo così all'esterno però siamo entrati a far parte di tutte le associazioni che già c'erano e questa è la festa che c'è stata quando abbiamo inaugurato la casa quando siamo venuti ad abitare abbiamo fatto una grande festa in strada in cui abbiamo invitato i vicini di casa e ci siamo presentati qui abbiamo fatto un'iniziativa di open day e quindi la gente è venuta un po' a vedere un'altra volta abbiamo fatto uno spettacolo sul terrazzo una volta un acrobata che scendeva dai balconi quindi abbiamo cercato di essere nel nostro quartiere una presenza aperta ecco e questa è stata la cosa importante ci abbiamo messo per arrivare dall'acquisto della casa che era il 2009 a quando siamo venuti ad abitare che era il 2013 quindi è stata una ristrutturazione anche abbastanza lenta perché abbiamo cercato oltre che di farla come posso dire bene dal punto di vista architettonico tutto anche in economia e quindi sono stati scelti gli artigiani non è stata data in appalto tutta la ristrutturazione ad una ad un imprenditore edile ma abbiamo scelto i vari costruttori in modo tale che seguissero anche alcune questioni etiche che noi davamo come importanti allora privata sì certamente collettiva aperta al quartiere allora abbiamo allora non forse non ci abbiamo tentato tanto ma erano tempi ancora forse prematuri per parlare con le amministrazioni o comunque eravamo i primi siamo comunque riusciti a parlare con l'amministrazione comunale e a scrivere un protocollo d'intesa molto d'intenti se vogliamo che è rimasto sulla carta forse non è rimasto sulla carta perché adesso vi racconto un'ultima cosa che sta succedendo a Torino e che potrebbe non dico essere merito nostro ma comunque fa parte dell'evoluzione che c'è stato su tutto questo mondo dell'abitare collaborativo c'è un po' da dire che Torino è la città degli housing sociali quindi abbiamo tutta una serie di situazioni costruite su edifici pubblici con interventi di qui da noi bancari qui da noi compagnia di San Paolo CRT dove però la città la utilizza per le emergenze quindi di situazioni fragili per breve tempo e così e invece rispetto ad una situazione più abitativa a lungo termine per ora allora non c'erano esperienze e per ora c'è stato poco nel in questi dieci anni c'è stata forse una cooperativa che ha deciso di fare in modo che l'immobile fosse in parte per delle situazioni di inserimento dopo percorsi di abilitazione riabilitazione e ha affittato ad un gruppo di famiglie quindi c'è stata un po' questa scelta di inserire situazioni normali con persone che erano all'interno di questo percorso di recupero però è stata una semplice un esperimento unico e anche molto piccolo forse lo dicevo già prima banca etica con cui abbiamo avuto i contatti ha dimostrato una grande disponibilità perché ha finanziato all'inizio il prestito alla cooperativa utilizzando le referenze di chi referenze aveva perché molti erano ragazzi giovani che non avevano dei lavori a tempo indeterminato quindi alcuni erano invece lavoratori quasi alla fine del loro percorso lavorativo quindi ha accettato questa garanzia complessiva e poi ha trasferito sui singoli i mutui utilizzando sempre questa garanzia perché alla fine poi il mutuo l'hanno ottenuto quelli che probabilmente da soli non avrebbero avuto le garanzie per ottenerlo perché erano proprio quelli con i lavori più fragili più precari e gli altri in qualche modo hanno venduto casa e se la sono ricomprata quindi questa è stata l'unica cosa che in qualche modo siamo riusciti a smuovere di diciamo di tipo più generale di tipo più amministrativo dicevo che le cose comunque vanno avanti perché proprio l'altro giorno la città c'è un tavolo casa nella città di Torino e siamo stati convocati anche come associazione perché è stata scritta una delibera dal comune di Torino sulla possibilità di dare in uso a associazioni cooperative privato sociale edifici pubblici da ristrutturare con un finanziamento del piano del PNRR in fondo capitale quindi senza necessità di restituzione al comune dove si pensa proprio ad abitazioni di tipo collettivo quindi qualche spostamento all'interno delle amministrazioni in questo periodo è stato fatto e noi siamo senz'altro sempre stati perché poi l'associazione coabitare è anche viva oltre il posi numero zero l'associazione coabitare è vissuta e sono nati almeno altri 4 o 5 realtà sostenute dall'associazione coabitare un'ultima cosa nella nostra prima esperienza siamo stati poco attenti alla costituzione alla manutenzione del gruppo non alla costituzione eravamo molto entusiasti tutto all'inizio ha funzionato dopo abbiamo avuto i nostri momenti di crisi a quel punto abbiamo scelto di essere accompagnati da dei professionisti esterni con dei percorsi di facilitazione che ci sono serviti adesso come adesso quando parliamo con le persone che vogliono cominciare un progetto di co-housing diciamo sempre che prima devono costituire il gruppo e poi cercare la casa che è più facile trovare la casa che non avere un gruppo di persone che abbia in qualche modo capito con se stesso per prima cosa se è proprio quello che vuole perché noi dopo quando dopo sette anni la solita crisi del settimo anno ci siamo fatti accompagnare c'è stata una riunione alla fine della quale ci siamo detti ma avevamo otto eravamo gruppi e otto aspettative diverse poi è andata bene però non avevamo approfondito questo aspetto e noi in questo momento pensiamo proprio che almeno per situazioni piccole ovviamente non sono i numeri dei co-housing all'estero non sono per queste situazioni il gruppo è importante in questo momento Coabitare sta seguendo sta preparando sta lavorando su un progetto di co-housing per anziani perché pensiamo che sia importante preparare delle abitazioni collaborative per accompagnare le persone nell'ultima parte della vita che non debbano sfociare negli istituti e nemmeno nella badanza tu per tu e quindi in questo caso abbiamo proprio cominciato facendo quattro incontri di dittatori proprio per fare in modo di allineare le aspettative di queste persone che così istintivamente dicono che vogliono andare ad abitare insieme ma che poi potrebbero invece anche aspettarsi cose di nuovo completamente diverse per cui come associazione Coabitare in questo momento noi con i gruppi facciamo soprattutto questo lavoro di accompagnamento del gruppo che ci sembra la cosa che possiamo fare meglio per l'esperienza che abbiamo e che comunque consideriamo molto molto importante mentre forse nel nostro caso poi è andata bene lo stesso ma nel nostro caso avevamo un po' sottovalutato come necessità quindi quello delle relazioni rimane un punto un punto nodale nelle situazioni in cui si scelga di vivere in modo collaborativo direi che questo è stata un po' la nostra esperienza adesso se riesco vi faccio girare qualche foto dell'ultimo periodo ma vatte la pesca io Bruna che era la mia fonte di tecnologia non ce l'ho più come faccio a chiudere questo poverino annotazioni presentazione proprietà di proprietà del documento non mi piace però se riesco a chiudere questo che non c'ha più un pallino se no non vi faccio vedere le foto di adesso che mi piaceva farvele vedere ma sono imbranata forse qua ecco ecco forse vi faccio vedere qualche foto se riesco ecco qui stiamo mangiando sul terrazzo la convivialità e questo terrazzo ormai ha tutto quel terra non vediamo però dovevo ricondividere quindi secondo me chiudere la condivisione precedente e riprenderla sul nuovo documento ci provo allora quando apro la foto poi mi dice condivisione condividi schermo si condividi schermo non me lo do però forse devi prima chiudere la session aspetta nuova mi dice nuova condivisione ok ok lo vedete sì sì adesso si perfetta ecco per cui adesso è tutto verde c'è questi ci sono questi questo enorme glicine che ci affascina che ci copre che ci fa lavorare troppo ecco questa direi che la maggior parte siamo in fase di così abbiamo il salone sotto che non ho trovato delle foto è un uno spazio in cui riusciamo a mangiare tutti in cui c'è un forno a legna una cucina e c'è la lavatrice comune e abbiamo fatto anche in occasione del mese del dell'abitare collaborativo abbiamo fatto delle pizze per la gente del quartiere quindi c'è un po' un così una convivenza con queste con il nostro vicinato che è importante ecco siamo anche punto di riferimento per un gas che non è solo per gli abitanti del del Coausic ma è anche per altri del quartiere che si sono aggregati perché avendo questo spazio possiamo accogliere le derrate che arrivano e quindi ci è sembrato questo è un po' quello che riusciamo a a a proporre e a fare all'interno del quartiere ecco questa è la zucca che riusciamo a cuocere nel nostro forno a legna e che poi mangiamo tutti insieme e così direi che questa è un po' la nostra la nostra realtà eh che è piccola e soprattutto una realtà che ci siamo potuti permettere perché avevamo soldi per comprare tutta la casa il terreno e l'abitazione avevamo soldi per ristrutturarla quindi ci rendiamo conto che non è sono non è un'esperienza che possa essere tanto allargata rispetto a persone che possono avere necessità di casa e continuiamo a lavorare invece per fare in modo che questa esperienza non rimanga una cosa bella solo per noi ma come associazione che possa essere diffusa ad altre persone e ovviamente se non c'è un contributo della pubblica amministrazione almeno ho capito che sono riusciti a farlo anche senza in alcuni posti ma penso che sia molto difficile grazie Piera veramente molto interessante e poi colgo il tratto comune comunque che c'è stato sia nel tuo racconto che in quello di Andrea che è importante che il co-housing si apra all'esterno diventi una gemmazione di socialità insomma che è qualcosa certo che nelle città soprattutto nelle realtà metropolitane è molto difficile e anche questo lavoro che avete fatto di resistenza rispetto alla gentrificazione mi sembra molto interessante invece non ho capito perché l'hai detto in maniera veloce il fatto che un esperimento di co-housing in cui si si mettevano insieme esigenze di persone fragili e co-housing volontario diciamo elettivo non non ha funzionato o non è replicabile era molto piccolo ed è stata l'unica esperienza no no ha funzionato però è un'esperienza piccola e condotta dalla cooperativa e adesso anche a proposito di questi immobili che la città vuole mettere a disposizione la nostra proposta è proprio di nuovo di fare in modo che ci sia un mix tra persone che scelgono l'abitare collaborativo e altre persone che magari forse non lo sceglierebbero che però possano in qualche modo avere dei vantaggi dal vivere con persone che hanno uno cioè che si predispongono a uno stile di vita inclusivo quindi la proposta che facciamo anche adesso al pubblico è una proposta di questo tipo ecco no 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 è stata piccola come esperienza per quello che dico non che non abbia cioè non ha funzionato perché era talmente piccola che non siamo riusciti cioè è stata poco significativa ecco in questo modo allora io ringrazio Piera ringrazio tutti i co-moderatori e i relatori e concludo questa questa prima o seminario sul co-housing mostrandovi la il sondaggio che si trova sul nostro sito quindi provo a condividere dunque me lo sono perso allora un attimo solo che devo verificare mi si è chiuso allora ecco provo a condividere questo è il nostro sito www.abcbenicomuni.it e qua c'è la campagna sul co-housing intitolata come il ciclo di di seminari che abbiamo aperto oggi se andate quindi sul link abcbenicomuni.it slash vite in comune trovate sia la presentazione del ciclo di seminari di cui il secondo sarà il 22 di aprile un sondaggio in cui abbiamo strutturato una serie di sezioni per fare in modo di raccogliere dei desiderata rispetto a persone che siano interessate anche per un futuro per una futura esperienza di co-housing il risultato del sondaggio lo discuteremo il 28 maggio quando ci sarà l'ultima l'ultimo seminario in cui abbiamo invitato esponenti delle istituzioni sia locali che c'è una senatrice che ha fatto una sua proposta di rigenerazione urbana quindi e poi invitiamo naturalmente tutti i relatori che ci hanno accompagnato nel percorso a partecipare magari alla tavola rotonda perché quest'ultimo appuntamento si concluderà con la discussione dei risultati del sondaggio quindi vi chiediamo di diffonderlo di farlo compilare e completarlo entro diciamo il 20 di maggio e parallelamente al sondaggio trovate sempre sullo stesso percorso anche la possibilità di caricare delle foto di luoghi abbandonati di Roma che ci piacerebbe diventassero magari degli spunti per delle localizzazioni di futuri co-housing e sempre il 28 di maggio decideremo la foto che sarà scelta da tutti come il possibile luogo abbiamo detto in via dei matti al numero zero che un po' ricorda il vostro numero zero io ringrazio tutti e saluto e ci vediamo il 22 maggio grazie a tutti un saluto grazie saluti noi ci chiamiamo così perché in effetti oltre a essere il primo un po' come co-housing è in via Costolengo che per Torino Costolengo è proprio la via dei mar era il manicomio quindi abbiamo due assonanze il via Costolengo numero quattro e quindi ecco allora speriamo sia di buona auspicio a questa assonanza grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti un saluto